Buongiorno a tutti, grazie. Io sono il braccio operativo di Daniele, siamo in società insieme e oggi dovrò raccontarvi un pochettino più nel concreto, nell'oggettività, quello che è Arduino. Mi chiamo Nicola Rezzoli e parlare di Arduino così, in maniera teorica, abbiamo fatto un gioco di parole, lo consideriamo piuttosto arduo, per questo che pensiamo che la cosa migliore sia alla fine fare degli esempi. Quindi per mostrarvi come funziona poi questo aggeggio, questa scheda, andiamo sul concreto. Per far questo abbiamo un paio di esempi che sono diametralmente opposti l'uno con l'altro, perché hanno ambiti diversi, ma ci fanno capire quanto è versatile questa scheda che stiamo andando a vedere velocemente oggi. Gli arducopter e un ambito musicale. Partiamo con il primo che sono arducopter, sono dei droni, consideriamo i giocattoli, quindi sono degli oggetti volanti, non richiedono il controllo di un pilota, sono automatici, hanno dei percorsi, sono dotati di un Arduino, di un processore Arduino, una scheda Arduino, e si muovono da soli. C'è un piccolo video giusto per farvi vedere come funzionano questi droni, hanno in questo caso un telecomando e una telecamera sopra, ce ne sono anche di automatizzati ovviamente, e sono prodotti da un'azienda che si chiama 3D Robotics in America e dici benissimo, è un piccolo giocattolo. Se io vado a vedere quanto costa uno di questi piccoli giocattoli, partiamo dai 599 dollari e capiamo in fretta che un'azienda come 3D Robotics non faccia fatica a fatturare diversi milioni di dollari all'anno. Quindi usiamo Arduino, bene, usiamo una cosa che costa poco, semplice, ma la applichiamo in un campo che è effettivamente molto business. Un campo invece totalmente differente è quello della musica. Questo ragazzo è un musicista, se si può sentire l'audio. Ha creato questo strumento, adesso ve lo faccio rivedere così almeno. E un accelerometro posto proprio qui. Ecco, lo faccio vedere così velocemente, 30 secondi di video. C'è Arduino e un accelerometro posto proprio qui sotto, un sensore di tocco. Appunto questo funziona da tastiera senza tasti. Quindi questo, combinato al movimento, combinato a tutte le altre variabili, crea un suono abbastanza organico. Questo musicista va in giro, fa concerti e si è costruito questo strumento usando la stessa tecnologia, la stessa scheda che abbiamo visto prima. La stessa scheda è questo famoso Arduino, vediamolo un po' più da vicino. Poi abbiamo anche un paio di casi concreti. All'aspetto di un pacchetto di sigarette ce ne sono diversi di Arduino. Questo è uno, questo è un altro tipo, questo è un altro tipo ancora. In realtà sono una famiglia di schede, ognuno con le sue peculiarità. Sono prodotte in Italia e sono vendute in realtà in tutto il mondo. Ma perché Arduino è diventato così famoso, così tante persone lo conoscono, anche solo per sentito dire. Perché sono riusciti a creare quello che noi abbiamo chiamato ecosistema, dove l'hardware in realtà è forse la punta dell'iceberg, è chiaramente una componente fondamentale perché senza hardware non si fa. Ma ci sono una serie di elementi, noi ne abbiamo identificati tre, che riescono a spiegare bene qual è l'approccio di Arduino e di chi l'ha inventato. Il primo è software. Il software per programmare questo genere di scheda, è una scheda che ha una sua memoria, quindi è un piccolo computer, diciamo così, e quindi deve essere programmato. Per essere programmato c'è un software che viene liberamente scaricato dal sito e molto simile al linguaggio C, quindi con delle nozioni anche base, e poi Daniele vi farà vedere un esempio pratico, ci consente di programmare e fargli fare delle cose. Quindi io posso a questa scheda collegare dei sensori, degli attuatori, lo posso programmare, posso dirgli di fare delle cose, dalle note musicali a sollevare un oggetto tramite delle eliche. Esistono delle librerie, cioè degli altri pezzi di software che vengono scaricati anch'essi gratuitamente e mi consentono di fare delle cose che dovrei programmare da solo. Io voglio che questa si colleghi in internet e mi scarico la libreria per collegarlo a internet, voglio che questo si colleghi a un sensore per leggere i giri di un motore, io mi scarico la libreria, eccetera. Le librerie quindi sono dei pezzi di software anch'essi liberamente disponibili. Ma la cosa più importante in realtà è la community e quindi ancora le persone, alla fine giriamo intorno alle cose, parliamo di hardware, di software, ma ci sono ancora le persone dietro. Sono centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che si trovano e che condividono la loro esperienza, il loro know-how, i loro progetti liberamente in queste community. Ci sono decine, centinaia di siti dove si trovano schede di progettazione, codici per far funzionare determinate cose, librerie e quant'altro e queste persone si trovano e condividono in maniera totalmente libera quelle che sono le peculiarità e le caratteristiche e le loro invenzioni. Ma a cosa serve alla fine Arduino? Andiamo un pochettino più anche nel concreto. Ci sono tre ambiti specifici. Il primo ambito ovviamente è per fare una prototipazione rapida. Questa qua ne ha già parlato di prototipazione rapida, quindi io posso costruire in maniera rapidamente, in maniera veloce, quelle che sono delle mie idee, le posso concretizzare. Daniele prima ha citato quell'orologio, ve lo ricordate, no? Il primo modello, il primo prototipo è stato fatto così, come vedete voi. C'è uno schermo di un vecchio cellulare in occhio, c'è dietro un Arduino e hanno incominciato così a fare il primo prototipo. Funzionano, funzionano, incominciamo a vedere e poi presentiamo questa idea e poi forse raccogliamo fondi. Nel caso dello smartwatch è funzionato, è andato molto bene, in altri casi un po' meno, ma con Arduino sono riusciti a accorciare notevolmente i tempi di progettazione, sviluppo e quant'altro. Il secondo ambito invece è una piccola produzione, cioè produciamo dei pezzi che vengono già venduti comunque al mercato e a questo punto hanno già una loro idea di marketing, anche un'idea commerciale. Un esempio è per esempio l'open sprinkler. Questo qua è quello che vedete, un irrigatore, un classico irrigatore di quelli che vengono messi nel circuito di irrigazione dai giardinieri, con la differenza che si collega a internet. Monta una scheda Arduino e grazie a quello io posso programmarlo molto più facilmente dal mio browser e posso comunque impostare quando irrigare, posso farlo quando sono in ufficio e mi sono dimenticato di far partire l'irrigazione e tutta una serie di altre cose che la connessione a internet grazie a queste cose ci consente di fare ci aiuta. Ma la finalità che in realtà è più caratterizzante di Arduino è l'apprendimento, è nato per apprendere, quindi esiste davvero una scuola dove si può andare a fare learning di Arduino. Le community che abbiamo citato prima sono effettivamente dei grandissimi focolai di potenzialmente di istruzione, di learning. Tant'è che Arduino perché è nato e quando è nato? È nato da questa squadra di bei signorotti. Il primo a destra è Massimo Banzi che è quello che diciamo l'uomo emblema di Arduino. Loro lavoravano all'interaction design di Ivrea, che è un istituto che è stato fondato nel 2001 da Olivetti e da Telecom Italia per fare innovazione. Diciamo che è ancora la vecchia Olivetti che voleva in qualche modo rimettere in piedi quello che era tutta l'infrastruttura, tutto il know-how che girava intorno a Ivrea. A quel tempo Massimo Banzi era un docente di questo istituto e aveva bisogno di qualche cosa per i suoi studenti che fosse facilmente costruibile, potesse comunque aiutare molto gli studenti a imparare, sia dal punto di vista dell'hardware che dal punto di vista della programmazione. Quindi ha inventato questa prima scheda. Da lì, dal 2005, quindi non è che è passato poi così tanto tempo, le cose sono precipitate in positivo. Sono precipitate in positivo perché ha avuto un successo questa scheda che deriva tra l'altro il nome dalla caffetteria Arduino di Ivrea. Per cui uno dice ma perché si chiama Arduino? Perché i ragazzi che abbiamo visto prima in fotografia si trovavano in questo bar a bere l'aperitivo e da lì l'hanno chiamato Arduino. Ma perché ci sono così tanti oggetti, dispositivi, soluzioni tecnologiche di varie tipologie? Quello che vedete è semplicemente una piccolissima parte, sono andato su Google, ho scritto Arduino e sono uscite centinaia, migliaia di risposte nelle immagini. Perché secondo voi è successo questa cosa così importante? Tante persone hanno inventato tante cose, tante schede, circuiti elettrici e soluzioni software, ma soltanto alcune hanno avuto un successo di questo genere in così poco tempo. Ma fondamentalmente, per quello che diceva Daniele prima, perché Open, che è un paradosso, perché io ho avuto successo nella mia idea, perché l'ho fondamentalmente regalata, chiunque si può costruire una scheda Arduino, non c'è bisogno di andare a comprare questa scheda blu con scritto il logo Arduino e quant'altro, posso comprarla sul sito tranquillamente, posso però anche costruirmela da solo, posso scaricarmi i programmi per programmarla da solo, posso scaricare le librerie per costruire, per collegare questo dispositivo, chiunque può costruirsi il suo Arduino senza avere bisogno di tirar fuori un centismo in più di quello che è l'acquisto dei componenti e il suo tempo per imparare a far questo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa scheda, per esempio, che voi vedete, non ha dei diritti d'autore, non ha dei brevetti, ci sono delle logiche commercialmente distanti anni luce da quello che siamo abituati noi a considerare. Io faccio una cosa, non la faccio vedere, l'avendo chiusa con una scatola sigillata e guai a chi la apre, perché altrimenti mi rubano l'idea. No, questo è l'esatto opposto, però è un esempio pratico di come questa cosa può funzionare. Può funzionare perché di queste schede poi non ce n'è solo una, non c'è solo quella che io ho costruito e mi tengo stretta, chiusa nella mia scatola sigillata, ma ne esistono centinaia, migliaia di diversi tipi. Vengono remixate, vengono ricostruite, vengono rimodellate, vengono aperte, smontate, rimontate, riassemblate, rimesse in internet, il progetto, gli schemi elettrici, i software, per poi essere riutilizzati da tutti gli altri. E questo ha costruito una enorme, gigantesca community di persone che continuano a parlarne, guarda caso, continuano a parlare però di Arduino e il signor Banzi continua a vendere queste schede perché ci sarà sempre chi desidera comprare una scheda Arduino e non costruirsela, perché non gli interessa, perché non ha tempo, perché comunque il suo business è diverso, è concentrato sull'utilizzo. Però il fatto che ci sia questo ecosistema consente di sviluppare un'enorme quantità di soluzioni già pronte, non devo inventare praticamente niente, le cose che noi andremo a vedere dopo all'atto pratico le abbiamo costruite in pochissimo tempo usando una scheda Arduino. Ma perché? Perché siamo andati a scaricarci le librerie, abbiamo scaricato il software per programmarlo, abbiamo collegato degli attuatori e vedrete che un gioco che abbiamo inventato in tre giorni lo potrete vedere tranquillamente. Quindi questo concetto di Open, quello che voglio trasmettere di io è che è stato fino adesso molto ben compreso e condiviso per quanto riguarda il software. Ormai, ma non lo dico da adesso, ma da un po', è anche nell'hardware. Quindi il concetto di Open hardware è una cosa consolidata e che in certi casi specifici funziona molto bene. Quindi Open hardware cosa vuol dire? Che io invento qualche cosa, prendo uno schema elettrico, lo provo, funziona, quando sono riuscito a testarlo in maniera efficace lo metto su internet, oppure ancora non funziona? Perché non funziona? Ragazzi su internet c'è qualcuno che sa perché non riesco a far funzionare questa cosa? Perché questo attuatore non funziona? Perché questo sensore non si collega? Faccio una domanda e ottengo una risposta. Esistono centinaia di siti che danno questo genere di supporto, dove io posso fare delle domande e ottenere delle risposte. O posso dare soluzioni, o posso io stesso dare risposte. Questa community è stato il principale successo di Arduino. Ci sono tantissime altre oggetti, schede che vengono agganciate sopra. Anche questi sono degli esempi molto molto semplici. Si chiamano Shield e vengono messi uno sull'altro per poi andare a fare, non so, dei droni, dei robottini, dei sensori. Ci sono, se voi andate in internet, io adesso non sto a farmi perdere tempo e a annoiarvi, ma ci sono centinaia di esempi di video. Dalla macchinetta che bola, alla giochino. Da questo punto di vista, il fatto che questo, quello che voglio trasmetterevi è che questo concetto di open, che è spesso visto come si arriva al fricchettone, mette le cose online, perché tanto comunque non vuole guadagnarci, no, è diventato una vera e propria idea di business. Noi, nel nostro piccolissimo di azienda locale, abbiamo Sintatica, che è una società che si occupa di software insieme a Daniele, abbiamo un'idea open e ve la presenteremo oggi in anteprima. È anteprima mondiale perché non lo sa nessuno, ma non è che è anteprima mondiale perché l'abbiamo tenuta nascosta, grazie del complimento. La presentiamo e vi faremo vedere, cercando di farvi vedere il concetto, che sposa al 100% il concetto di piattaforma open. La nostra idea sarebbe, facciamo questo prototipo, lo comunichiamo, mettiamo online la nostra soluzione tecnologica, la nostra soluzione software e chiunque potrà poi usarla, contribuire a migliorarla e darci il suo parere. Proviamo, è una scommessa che noi facciamo, siamo sempre stati abituati a chiuderci, a fare i nostri software belli chiusi, confezionati, non far vedere a niente nessuno. In questo caso ci proviamo. Quindi, io credo che sia il momento di una bella dimostrazione live che vi fa il nostro Daniele, dove prenderà queste schede che farà funzionare magicamente e vi ringrazio per ringrazio per la visione. Andiamo a guardare, guardiamo, 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 guardiamo Ecco, quando dicevamo che Arduino è una cosa che ci si può costruire senza comprarlo, ve lo vogliamo provare a dimostrare praticamente, questa ce la siamo costruita noi, innanzitutto questa basetta si chiama breadboard, ha la caratteristica che si può utilizzare per assemblare dei semplici circuiti elettronici, innanzitutto senza saldare, senza usare il saldatore, e poi senza quindi bloccare i componenti su un circuito stampato una volta per tutte, ovvero se mi stufo li smonto e li riutilizzo di nuovo. Questo credo che sia il minimo esempio possibile di Arduino che si può implementare. Allora, questo è il microprocessore, il cuore, il cervello di Arduino, qui a fianco c'è un quarzo, è questo cromato, che è quello che dà il ritmo, i tempi, qua sopra magari, grazie, è quello che dà il clock si dice al microprocessore. Facciamo un piccolo confronto, questa unità lavora a 16 MHz, un computer oggi lavora senza problemi a 1,6 GHz, parliamo di 100 volte di più, quindi questo è il 100 volte meno potente del processore della CPU di un qualunque computer di oggi, almeno 100 volte meno potente. Nonostante tutto, è lo stesso divertente. Abbiamo finito, non c'è molto altro, qui ci sono una manciata di componenti che servono semplicemente a interfacciarsi con questo connettore, che a noi serve. Allora, l'ho finito, parita, interfaccia di programmazione, bello. Si in giro, la seriale? No? Vabbè, adesso cerchiamo di recuperarla. Trovata? Perfetto, grazie. Voilà, scusate, allora. Quest'altro aggeggio serve solo ed esclusivamente a collegare il nostro Arduino al computer. Ed è supportato da questi componenti. Questo è un pulsante di reset, quando lo premo fa la stessa cosa che fa il reset su un PC, lo riavvia e basta. Ho aggiunto un LED per far vedere qualcosa, perché se voglio mostrarvi un esempio di programma, questo, beh, penso che meno di così sia veramente difficile. Questo è un programma che fa lampeggiare questo LED. Tutto qua. Io qui definisco la variabile LED e gli dico, è attaccata al connettore numero 13 del nostro Arduino. Dico che quel connettore deve essere un'uscita, cioè deve pilotare un LED. Questo in una funzione che si chiama setup, che viene eseguita una volta sola, alla partenza. Nella funzione invece che si chiama loop, che continua ad essere eseguita, io dico, metti alto, cioè accendi, il LED. Aspetta 200 millisecondi, un quinto di secondo. Rimettilo basso, aspetta, ricomincia e così via. Vediamo se funziona e cosa succede. Questo lo compila, lo carica, eccolo qua. Tutto qua. Ora, vi mostro un altro piccolo giochino che abbiamo fatto, questa è veramente una banalità. Questo l'abbiamo realizzato assieme a un nostro collaboratore. Io mi sono occupato dell'hardware, diciamo, e lui invece si è occupato del software. È il gioco Simon, ve lo ricorderete, è quello che... è questo, quello degli anni Ottanta. Abbiamo provato a rifarlo. Allora, lui parte e mi suggerisce una sequenza. E se sbaglio, chiaramente, mi manda a quel paese. Tutto qua. Vi faccio vedere un altro esempio ancora, che riprendo da quello che vi ha detto prima Nicola. vi ha fatto vedere l'open sprinkler, no? Come un esempio di piccola tiratura di prodotti. Io ne ho comprato uno e l'ho sostituito al mio irrigatore. È divertente, perché... perché, l'ha detto Nicola, lo si può controllare via internet. Non so, ha tutta una serie di giochetti per cui io posso dare il nome alle stazioni, cosa che normalmente non potevo fare, ho un log, posso farmi mandare delle mail quando qualcosa non funziona, posso collegarlo, adesso non so se da qua funzionerà, ma posso collegarlo ai servizi di previsioni meteorologiche piuttosto che a dei sensori di pioggia per dire se è previsto che pioverà, per oggi non lavorare, e giochetti di questo genere. È una piattaforma open, per cui nessuno vi impedisce di scaricarvi il codice dell'Arduino che è montato sopra l'OpenSpring e di modificarlo come volete. Comunque ha, diciamo, è un bel giocattolo, tutto qua, ha un grosso limite a nostro parere, cioè che l'interfaccia web è simpatica, però esporre l'interfaccia web dall'esterno della DSL di casa vostra a tutto il mondo per la classica fregnaccia, accendo e spengo l'irrigatore quando sono in vacanza, quindi dallo smartphone piuttosto che, sì, si può fare, però è complicato. È complicato perché non è per nulla immediato, intuitivo, non è alla portata dell'utente medio, certo, probabilmente neanche programmare con Arduino, però questo è irrilevante, qui parliamo di utilizzo e non di programmazione. E questo ci ha fatto riflettere e ci ha fatto pensare che un effetto analogo, cioè il controllo attraverso internet, attraverso il browser, di questi dispositivi si dovrebbe poter fare a prescindere dalla propria connessione a DSL di casa o dal dover aprire le porte di un firewall per poter arrivare a un'interfaccia web. Sono cose che l'utente normale non dovrebbe nemmeno sentir nominare, io credo, e abbiamo voluto quindi provare a dire la nostra innanzitutto ponendoci il problema di risolvere un caso molto concreto che è quello di accendere una luce banalmente o aprire una porta. Ed è per quello che abbiamo quel serramento qua. Ecco. E' questa, sì, è questa la famosa è la famosa novità mondiale. Allora, qui qual è il punto? Abbiamo voluto costruire un abbozzo di una piattaforma, non è semplicemente un Arduino che pure c'è ed è là, non è nemmeno un'applicazione per dispositivi mobili che pure c'è e non è nemmeno un'infrastruttura lato server, una componente cloud che pure c'è. è l'unione di tutti questi strumenti e poi, come diceva Nicola, l'idea di provare a renderla aperta e lasciare contribuire tutti a questa cosa. Adesso, con l'avuto di Nicola magari vi facciamo vedere come funziona. Come ci organizziamo? Il mio telefono è qua. O io faccio vedere il telefono, dai, così. Già che sono qua. si presuppone che questa non sia una cosa aperta a tutti, evidentemente. In questa fase, nella nostra demo, non ci sono pretese di sicurezza. però, comunque, un accesso va fatto. Ok. Sono acceduto a questa applicazione con uno user, in questo caso sintattica, a cui sono associati alcuni dispositivi. quello che abbiamo voluto schematizzare qua è che abbiamo due dispositivi, luce nella camera e porta di casa, che sono attuabili, cioè governabili. E ce n'è un terzo, invece, cancello di casa, che in questo momento non è disponibile. Può essere per una serie di ragioni. Poi ne abbiamo messi altri che sono del tutto fittizi. Bene. Proviamo. Bello. È l'effetto demo. È connesso a tutto. Fantastico. No, spero di no. Non so se lo aspetta qualcuno qua dietro. No, ma vedi il relais. Non si è acceso. E vai con la demo. Ok. Diciamo una cosa. Cambio utente e vediamo. Altrimenti ve la raccontiamo. Minuscolo. Sì, sì. Non ne vuole sapere. Eh? Prima andava, sì. La classica frase, prima andava. Prima andava, no. Esatto, la classica frase. È sempre così. Vabbè, allora, poi magari cerchiamo di ripristinare la demo. Mentre tu ripristini io provo a spiegare un pochettino il concetto che governa questa cosa. Quello che stiamo cercando senza successo di farvi vedere in realtà è un concetto un po' più esteso e una piattaforma che dovrebbe essere condivisa. Che cosa sta facendo Daniele o sta cercando di fare? Lui si collega con un utente a un sito internet fondamentalmente. Banalizzo, ma il concetto è questo. Il sito internet lo riconosce perché usa un utente quindi un nome utente e una password per accedere a questa cosa. Però quando io mi collego a questo sito internet c'è a livello di server un database quindi comunque un amministratore di questi utenti che dice ok, tu sei l'utente Daniele o sei l'utente Nicola in questo caso e ti associo a determinati dispositivi che sono stati anch'essi collegati a questo database e lui c'è fuori. Adesso 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 mi apri anche la porta però eh adesso vediamo ok, non l'ho fatto vedere che prima era chiusa ma adesso la chiudiamo allora porta chiusa schiaccia l'interruttore porta a casa mi fa entrare per fuori la porta però non vale cioè se me lo chiedi se mi telefoni per aprire la porta non vale non è 2.0 e spegne la luce perché fa un caldo bestiale ok, perfetto quindi a livello di logica adesso non entriamo nei dettagli tecnici perché se no è inutile che cosa c'è? c'è un grosso un grosso database che dice ok, l'utente Daniele ha associato questi dispositivi questi dispositivi quindi lui è abilitato a comandarli non solo abilitato se è una luce l'accende la spegne se è una porta la apre basta se è una basculante la apre eccetera eccetera questo poi è anche unito a un altro concetto il concetto di prossimità io sono in vacanza in Toscana non posso accendere la luce di casa dico dove sono col mio smartphone ah, sono a 10 metri 20 metri 50 metri da casa mia posso aprire la basculante oppure controllo degli accessi io do questo accesso alla porta del mio ufficio e i miei dipendenti possono aprire la porta dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera dalle 8 di sera non può più entrare nessuno o la signora delle pulizie può entrare dalle 8 di sera in avanti è tutto gestito da un grosso database che gestisce queste cose e qual è il concetto che noi vorremmo spiegare far capire che al contrario dell'open sprinkler che richiede una conoscenza per aprire internet avere una connessione internet adsl devo aprire la porta e quant'altro no i dispositivi che noi abbiamo in questo momento inventato e collegato sono due arduino che sono collegati alla rete e quindi vanno anche essi su un indirizzo si collegano anche loro a quel sito internet che noi abbiamo prototipato e poi questo grande amministratore questo grande fratello che dice ok perfetto lui può aprire questa porta lui no lui può accedere la luce e quant'altro fate un esempio molto semplice in un condominio c'è il cancello elettrico noi abbiamo un ufficio c'è un cancello elettrico quindi ci sono 120 condomini non so quanti sono che devono accedere a questo cancello elettrico ci sono 120 telecomandi e quindi cominciamo a dire amministratore io sono un nuovo condomino mi puoi abilitare la mia applicazione per aprire questo cancello oppure io stesso ho una basculante che è dotata dello stesso sistema quindi io accedo al mio cancello e arrivo giù a aprire la basculante che non può aprire nessun altro quindi ci sono comunque diversi utenti che si collegano con diversi livelli di integrazione quindi c'è l'amministratore del condominio che può decidere chi aprirà la basculante io invece che sono il cancello che sono il proprietario della basculante posso aprire la mia basculante e non lo dico all'amministratore del condominio quindi c'è anche un discorso di un back-end se possiamo farlo vedere poi Daniele che è noi che abbiamo back-end è questa pagina di amministratore che è in maniera molto abbozzata in questo momento è un po' come lo smartphone che abbiamo visto prima lo smartphone che abbiamo visto prima qui non si vede lo schermo del Nokia però poco ci manca abbiamo creato una serie di utenti ci sono una serie di devices che sono collegati quindi la luce il cancello la porta di casa eccetera eccetera e poi quando io entro in un utente gli dico ok l'utente sintattica può controllare la basculante il cancello e quant'altro eccetera eccetera se io questi entrano per favore l'utente Nicola tolgo tutti i miei device quindi li li sgancio tutti salvo se io provo di fare di nuovo il login come abbiamo fatto prima con l'utente Nicola tra l'altro Nicola è uno dei ragazzi che lavora con noi che saluto che dovrebbe essere comunque qua se io provo di nuovo a loggarmi con i dati non ho nessun dispositivo associato quindi in tempo reale tra l'altro in tempo reale sì sì se li riassocio ovviamente li posso rivedere tutti se posso associarne soltanto due basculante quello che sia e in più che cosa ho come dicevamo prima anche a livello di mappa sul mio dispositivo se io vado a rivedere la mappa posso ricaricare la pagina e tu mi fai vedere ci arriva da solo però come ha fatto prima facciamo così mappa non so se si vede qua ci saranno anche i dispositivi che noi abbiamo geolocalizzato per fare un esempio in due punti diversi di palazzolo anche se sono qui vado a geolocalizzarli vai sulla mappa per favore facciamo vedere che ci sono due marcatori che fanno vedere adesso non so se si riescono a vedere perché l'inquadratura è un po' non è il massimo comunque si dovrebbero vedere due marcatori e addirittura lo stato che questi marcatori hanno ho paura che questi però non siano geolocalizzati erano gli altri saranno gli altri facciamo vedere gli altri prima c'erano quindi che cosa vuol dire che io dico ok mi sto avvicinando al cancello di casa il mio marcatore da grigio diventa verde perché posso accedere altrimenti non posso aprirlo oppure in questo momento la luce di casa è accesa perché qualcun altro l'ha accesa e quindi anche questo diventa verde la geolocalizzazione serve per monitorare ma anche per avere appunto il discorso della prossimità più mi avvicino e più è probabile che io possa usare questa cosa o meglio più mi allontano e io non vorrei che fosse gestito ecco i marcatori adesso qui si intravedono quello grigio non è raggiungibile perché è disattivato spento quell'altro invece se poi ci clicco sopra vado a vedere luce camera e l'accendo e la luce si accende ecco una particolarità è banale però fino a un certo punto il pulsante è diventato verde non perché l'ho premuto ma perché l'arduino ha ricevuto il comando e ha rimandato indietro un feedback all'applicazione dicendo io la luce l'ho accesa chiaro che la cosa può interrompersi a seconda del livello di sicurezza in entrambi i fronti però in questo modo se si accende si ha la sostanziale certezza che si è accesa ecco questo concetto che io ho fatto fatica a capire è molto logico se ci penso non è un pulsante che si accende perché lo schiaccio non è perché io faccio un'azione di premere sul telefonino e quindi anche se sono nella grotta di Frassassi non c'è connessione la luce si accende no si accende solo quando lui si collega gli dice ok mi sono acceso e rimanda indietro il segnale e diventa verde quindi è un concetto alla fine che è molto importante da capire perché gli stati che noi vediamo non sono derivanti dall'azione che io compio sul telefono ma da quello che è effettivamente la mia situazione è nel dispositivo prendiamo la porta come? prendiamo la porta prendiamo la porta cosa succede? chiuso allora quella quella porta di per sé va bene non è nemmeno una porta è un serramento evidentemente che usiamo a scopi dimostrativi ma ci è stata fornita da dei ragazzi da una start up di Bergamo e mi dite la start up delle porte no la start up delle serrature e non sto scherzando la serratura che è montata lì dentro è una cosa assolutamente innovativa è una serratura che ha la peculiarità di montare tutta la parte elettronica e meccanica in questo momento ovviamente l'elettronica è un prototipo ed è collegata al nostro ma all'interno del montante e non della come si dice del serramento vero e proprio infatti lì è di vetro non si sarebbe potuto fare diversamente ok ora questo consente di fare una cosa che prima era piuttosto difficile fare cioè montare sortature elettriche su porte dove di fatto raggiungere con dei fili elettrici o comunque con un'alimentazione elettrica la parte della maniglia era sostanzialmente impossibile il meccanismo per fare questa cosa è brevettato questi stanno cercando ovviamente di trasformare la loro idea in una azienda noi abbiamo suggerito che potesse esserci una partnership con il nostro tipo di tecnologia e qui siamo con questa demo un altro aspetto che fa parte del loro brevetto è che quando questa serratura si chiude è chiusa per davvero cioè le ganasce sono quelle della non semplicemente della molla ma della chiave vera e propria mi pare di aver raccontato tutto qui il punto è proprio che l'idea è in questo caso manca un pomello se fosse una porta qui ci sarebbe un pomello ma non ci sarebbe una maniglia e forse nemmeno una chiave per aprirla si fa appunto così e si dà l'impulso se entro tre secondi mi pare si apre a questo punto la porta lo si può fare se si aspetta troppo lei si richiude e infatti il meccanismo si è già richiuso esatto prova a schiacciare adesso a questo punto è ok si è richiusa e la porta è di nuovo a prova di ladro esatto e ovviamente qui c'è il nostro amico Arduino 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 in questo caso è collegato a una piccola scheda con due relè che contiene dei led eccolo là quando io lavoro è sulla luce ah sì è sulla porta ok anteprima mondiale noi ci crediamo e speriamo bene grazie grazie